Il libero consorzio di Agrigento dedica la massima attenzione alla situazione complessiva dell'intera rete stradale di sua competenza, ma senza risorse finanziarie sarà impossibile non solo la manutenzione ordinaria, ma anche tenere aperte diverse strade che oggi rivestono un'importanza strategica nei collegamenti tra le zone più interne. Una situazione disastrosa quella che emerge dal report sulle ex strade provinciali e consortili del territorio agrigentino che il settore infrastrutture stradali dell'ENTA ha voluto evidenziare a fronte delle diverse richieste di intervento arrivate dai sindaci e finalizzata a ripristino delle condizioni di percorribilità e di sicurezza di alcune strade, soprattutto a seguito delle prime piogge autunnali. Ex provincia regionale che a causa della mancanza di fogne e di trasferimenti ridotti al minimo da parte della regione non è più in grado di far fronte alle emergenze se non con estrema difficoltà e con tempi dilatati. Molti mezzi sono usurati, attualmente ha a disposizione un solo bobcat funzionante e una mini pala meccanica per la rimozione di fango e detriti che dovrebbero bastare per oltre 1.350 chilometri di strade di propria competenza. Troppo poco per garantire interventi immediati, impossibili per situazioni ancora più complicate, frano di sesti tali da compromettere la sede stradale. L'elenco delle strade sulle quali occorre intervenire con assoluta priorità che l'ex provincia ha trasmesso a suo tempo alla regione è stato approvato solo in parte dal Dipartimento, ma di questa al momento si ha solo qualche promessa, senza atti concreti, a partire dagli stessi decreti di finanziamento dei quali non si ha notizia, nonostante ripetuti annunci provenienti dalla regione. Basti pensare che oggi si sta intervenendo ad oltre un anno e mezzo dal crollo sul ripristino del ponte sulla strada provinciale 37 Caltabellotta-San Carlo, ma solo grazie ai fondi della protezione civile. Di fronte a tale situazione avvertono i responsabili del settore infrastrutture dell'ex provincia di Agrigento, non è difficile ipotizzare in un futuro non troppo lontano la progressiva chiusura di altre strade della cosiddetta viabilità secondaria, importantissime per cittadini e attività lavorative che andrebbero ad aggiungersi alle oltre 40 già inibita al traffico per frane o smottamenti.